Le prime due partite alla ripresa del campionato saranno fondamentali. Tutti d'accordo nell'ambiente biancazzurro sul peso specifico che il match dell'Adrietico Cornacchia contro la Juve Stabia e la trasferta di Pisa avranno nell'economia del finale di stagione del Pescara. Due scontri diretti perché sono due compagini che hanno un punto in più del Delfino e il quadro sarà ancora più chiaro dopo il recupero di Ascoli Cremonese fissato per il 17 giugno. In questo caso due compagini a ridosso dei biancazzurri. A ben guardare la classifica il primo obiettivo della squadra di Legrottaglie è evitare i play-out che sono a tre punti di distanza. Solo in caso di un buon impatto sulla ripresa del torneo sarebbe possibile rialzare le mire verso i play-off distanti 6 punti. Ma a regnare ora come ora deve essere la prudenza perché non è possibile sapere quali saranno sulle squadre le conseguenze di una sosta così lunga. E poi il Pescara ha una incognita in più, l'attacco. Si contava molto sul recupero di Tuminello, non subito al 100% visto il grave infortunio dal quale veniva, ma il suo innesto, anche part-time, sarebbe stato corroborante in un ruolo, quello del centro avanti, che non ha portato tanti gol al Pescara. Il nuovo stop con tanto di stagione praticamente finita impone ora a Legrottaglie di trovare un nuovo riferimento certo al centro dell'attacco. Sarà quel Riccardo Maniero che ha vissuto una stagione alta allenante con più bassi che alti? Sarà il baby Gennaro Borrelli che ha avuto un buon impatto a ottobre e novembre prima di subire un calo e vedere limitato il proprio minutaggio? O sarà Valery Boginov, la cui tecnica e classe non è in discussione, ma che ha bisogno di dimostrare di aver recuperato una condizione fisica accettabile in queste settimane di lavoro? Premesso che le tante partite in pochi giorni, al netto di contrattempi Covid, creeranno spazio un po' per tutti, servirà comunque un punto di riferimento. Cristian Galano è stato l'uomo in più e dal Robben delle Puglie ci si aspetta la continuità in termini di finalizzazione mostrata fino a febbraio. E poi si attende Manuel Pucciarelli, il giocatore giunto in riva all'Adriatico per far dimenticare Macin in termini di giocate, fantasia e gol. Un infortunio beffa nel primo giorno di allenamento, una lunga guarigione. Ora l'ex Chievo è pronto e su di lui è lecito puntare anche in vista di una conferma per la prossima stagione. Intanto la squadra continua a lavorare, oggi seduta a mattutina, venerdì doppia seduta di allenamento e un nuovo round di tamponi e test sierologici. Sabato pomeriggio ovviamente a porte chiuse, test in famiglia al poggio, dopodiché scatterà la settimana tipo che porterà alla partita con la Juve Stabia.